...da due mesi e mezzo che non sento un minimo e spavuto intervento di qualche consigliere di maggioranza che in questa serata che si va promuovendo un po' di misura hanno potuto chiedere l'ortanza per aver fatto una vita. Se ne ha liberato uno, un po' l'altro più bene. Pesca che era tu quello che vuole. No, no, lei no. Non ti sto a dire. Si può, ma io. Voi andate in consorso. Grazie.